Noi cercheremo di far rivivere questo posto che è nel quale tutti gli aretini con poti a piedi, un'idea di un gruppo di innamorati di poti che cerca di far rivivere questa bellissima montagna che tutti noi quando si alza il sole la mattina la guardiamo e poi quando andiamo a vederla troviamo che veramente purtroppo è completamente disastrata. Non chiamatela solo camminata all'iniziativa che ha sfornato Mauro Valenti, patron di Arezzo Wave e che riguarderà appunto la collina di poti non è solo un modo per trascorrere una giornata all'aria aperta ma un grido di dolore per le condizioni di questa zona così cara agli aretini eppure così tanto degradata. Ho avuto un'ottima idea a Mauro Valenti perché in questo modo ha unito un po' tutte le attività più di intrattenimento quindi musica o comunque attività per famiglie con le camminate all'aria aperta, l'outdoor, il trekking, la bicicletta che oggi sono attività che vanno molto di moda. Quindi un progetto ambizioso anche perché poi comunque non è facile da realizzare. È molto importante tenere di conto che si parla comunque di una montagna tra virgolette sacra per noi aretini quindi andrà trattata con le pinze però io credo che sia anche un modo per riscoprire un po' un posto dove effettivamente ormai non ci va quasi più nessuno. La prostituzione nella strada che sale dallo scopetone ne è un chiaro esempio ma salendo fin sulla cima lo scempio che si incontra nella zona del vecchio albergo Alpe di Poti è una vera bomba ecologica e così domenica 19 luglio Poti a piedi rappresenterà invece un omaggio a questo luogo che grida vendetta. Oltre a Valenti sono coinvolti nel progetto la Wisp, il CAI, la Polisportiva Policiano e l'Olmo Ponte. La gara agonistica si affiancherà ad una marcia verso la montagna. Il nostro progetto è quello di creare quattro percorsi che risalgano come un fiume che va all'incontrario che da quattro punti cardinali porteranno sia atleti, podisti, professionisti che correranno facendo una maratona di 42 km se sommiamo i quattro percorsi, sia camminatori che piano piano al ritmo dei loro passi andranno fino a Poti partendo dai punti cardinali, quindi dal sud all'inizio dello Scopetone con il sentiero 50 quello che è famoso perché va da Assisi fino a Chiusi della Verna, il percorso francescano. Da nord sempre il sentiero 50 partendo dalla Scheggia che tutti conoscono qui ad Arezzo salendo poi per Monte Mercoli arrivando a Poti, da est da Badia San Veriano quindi venendo dalle spalle di Poti e poi quello più cittadino da Villa Severi salendo poi verso Quarantola sotto Poti e poi nella strada che da San Polo va a Poti arrivare in cima. Quando si arriva in cima poi non è che finisce, inizia la festa perché noi vorremmo ricreare giochi di una volta corse coi sacchi piuttosto che pentolacce, piuttosto che cose che facciano rivivere il passato ma al tempo stesso il presente e il futuro, quindi momenti di intrattenimento, musica, bambini, astrofili, yoga e chi più ne ha più ne metta. Deve essere un momento in cui ci sarà anche da mangiare speriamo di trovare i prodotti tipici della zona, magari lassù c'è il tartufo, c'è i funghi chissà qualcosa di bello per tutti. Con Arezzo TV seguiremo chiaramente questa manifestazione. Poi come ottica Franchini invece io donerò dei premi e quindi che poi giustamente il nostro manager Valenti metterà in paio. Quindi ecco sicuramente sarà una bella cosa e ci ricorderemo tante belle cose.